Dovrei finalmente aver capito, sei pronta? Sì Allora, guardami eh Io sto gestendo i miei affanni, tu mi stai distraendo Lo sai, è la cosa più importante di questo gioco Allora, aspetta un attimo che mi sistemo qui dentro, vai Teoricamente, ta, ta Mi son confuso col tasto, Fere, aspetta Aspetta, ho confuso il tasto Fere, Fere, non devi ridere Il fail della vigil Finalmente il giorno è arrivato, l'aggiornamento è finalmente uscito Stef, mi stanno in porto È un consolino, Fere Non ci provare mai più a buttarmi giù dalla mia moto, dicevamo Che finalmente l'aggiornamento è uscito Oggi andiamo a comprarci il bunker Non vedo l'ora, Fere è piena di soldi Possiamo comprare il miglior bunker che c'è a disposizione E quindi siamo casatissimi E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef, che si chiama GTA 5 E finalmente, finalmente siamo qui Prontissimi a giocare il nuovo aggiornamento E finalmente Fere Niki avrà il suo bunker Questo è il giorno migliore della mia vita Lo so che lo dico per tante cose Però questo è davvero particolarmente importante per me Allora, si, ha detto bene Il suo bunker perché questa volta non potevo non concederglielo Lo comprerà lei Hai comprato tutto tu Sarà suo Questa volta tocca a me Anche se di solito va sempre storto quando provo a concederti qualcosa Sì, è vero Quindi vediamo un attimino Prima prova a comprarlo Poi vediamo se davvero ce l'avrai tu In ogni caso compriamo il bunker migliore che c'è Che costa 2 milioni e 375 mila dollari Se ricordo bene Ok Dovrebbe essere fighissimo Non abbiamo guardato nessun video Nessuna cosa per non spoilerci nulla Sorpresa, sorpresa E quindi non vedo l'ora Vai Fere, forza Andiamo, andiamo Sto andando, sto andando Che non vediamo un bunker Che non può avere un bunker Inizia a pensarci Non lo so Buncherino No Andiamo a fare Andiamo a fare Allora, allora Io come ben sapete Con Solini avevo 4 milioni conservati da un sacco di tempo Ok E finalmente li ho potuti spendere nel migliore di modi possibile Però Fere, non potrei comprare nessun veicolo Ho ancora un milione e mezzo Mi esce qualcosa No, 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 no Sì che mi esce qualcosa Le cose davvero fighe 2 milioni e mezzo, 3 milioni Vabbè, però io un bunker e tu no Io vorrei troppo la moto per volare Perché così ti faccio l'istante della vita Lo so Ok, che son bravissimo anche senza la moto che vola Però con quella posso farti l'istante ancora più belli Però vedremo un pochettino Mi sa, sondaggino E decidete voi che Diciamo che veicolo vorreste vedere Sì, tanto mi pare che sono Sei in tutto Esatto, esatto Ne potrò mettere solo 5 Perché ho solo 5 opzioni Però votate tra quei 5 E vediamo un po' Muoviamoci Fere che non vedo l'ora di vedere cosa tutto c'è Secondo me è qui Fere Tu che dici? Che bello Sì, è questo È questo per forza Vai, scendi Aspetta, aspetta Scendo, parcheggio e riscendo Allora, non puoi guardare nulla fin quando non mi fai entrare anche a me Ok Te lo dico Aspetta, è partito Io non ho fatto niente Come è successo dalla moto Mi si è partita l'apertura Ma voglio vedere anche io Fere sta andando nel bunker senza di me No, lo vedrei anche tu Non appena ti invito Aspetta, non guarda Allora Mi sta lasciando solo Guardo poco E ti invito subito Mi ha lasciato senza bunker Come si è permesso Eccomi Fere Realmente siamo insieme Allora Non ho visto nulla Te lo dico già Non ho visto nulla Quindi andiamo a visitare tutto assieme Vedo subito valore Merce ricerca e scorte Ricerca mi intriga un sacco Sì, sì, sì E perché ce l'ho molto Particaggiata qua Ce l'ho più usare? No Non mi fa salire No, non posso usare la moto dentro Ma questo è un pochizio per me Questi sì Questi sì Questi sì Ok, vai andiamo in giro Fere Chi sei? Buongiorno Buongiorno lei Salve È il meccanico? Allora, allora Officina del bunker non disponibile Perché è già qui Il tuo centro operativo mobile Perfetto Ok Sì, il centro operativo mobile È una cosa incredibile Adesso ve la faccio vedere al volo Quanto costa? È meravigliosa Non costa molto Ma ce la segna Come se fosse ancora bloccata Perché probabilmente Bisogna fare una missione Per sbloccarla Vedi? È questa qui No, no, no Secondo me basta comprare il bunker Controlla Noi dovremmo fare le missioni Invece stiamo qua ad esplorare Ma io voglio vedere quanto è grande Appena comprato Voglio vedere un pochettino Come è fatto Allora, dove saranno Diciamo quelli che fanno la ricerca Dove Dove portare le scorte Di sicuro già qua c'è un posto interessante Guarda, guarda qua Salve Buongiorno Non c'è nessuno a lavorare No, qui non ci passiamo Scendi, scendi, scendi Scendi un attimo Scusate Ci siamo un attimino persi Ci potete spiegare dove dovremmo andare? Non hai accesso al poligono di tiro Quindi qua c'è il poligono di tiro, Fere Ok, ma è tutto da acquistare 700.000 dollari Cioè mi fai pagare 2 milioni e mezzo Un bunker e non mi dai niente Non ti lamentare La prima missione di Fere È recuperare delle scorte È in quel furgone lì E in questo momento nel server Ci sono tutte le persone con i nuovi veicoli Moto che volano Gente con mitraglie E Fere è su questo camioncino qua Sì, sì E devo girare qua Devo girare qua Non l'avevo visto Potrebbe esplodere con un colpo di un bastone Di una vecchietta Potrebbe esplodere anche da solo Te lo dico Cioè poi le scorte sono qua in bella vista Vedo praticamente un radar Che mi sta segnalando a tutti i player nel server Quindi diciamo che non sono tranquillissima Allora fammi vedere No, Fere, dai, sono pochi Siamo soltanto in venti Dai, tranquillissimo Puoi stare tranquilla Allora, tranquillissimo Speriamo di farcela Ci sono soltanto 18 persone armate fino ai denti Esatto Pronte ad ucciderti Cosa vuoi che sia Che poi hanno di tutto Hanno già comprato veicoli speciali Fere, ho visto la moto che vola Ok Sì Praticamente è andata più alta di un palazzo E pensa a te E stava volando stile Harry Potter Tipo nella scopa Era bellissimo Io voglio quella moto Cioè gli istanti diventano proprio banali Mi fai tra le nuvole gli istanti Brava, brava, brava Nel Montecilia Sì, esatto Tra una nuvola e l'altra puoi fare i tuoi istanti Attenta Fere che c'è un player Vai veloce dentro il bunker Vai veloce Vado, vado, vado Nel dubbio Non so se ci vogliono ammazzare Oddio Dovrebbe andare bene qua, no? Eh, non credo Sì, 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 sì Andato, andato, andato Io vedo l'animazione che sto entrando dentro il bunker Ok Meno male Ma che sono che mi uccidono davanti al bunker Questo è uno dei nuovi veicoli Io l'adoro Perché adoro che sono tipo di macchinina Ed è troppo bella perché ha una mitraglietta No, che bello Ciao, sei fantastico Chiunque tu sia La voglio troppo Scusi, me la fai provare? No, secondo me ti spara Scusi Posso provarla? Scusi, secondo me ti spara Fai attenzione No, adesso Aspettando che Fere finisca di dare le sue scorte Almeno mi fa già provare il veicolo Ma che stiamo? Ok Parcheggiatta qua Ma le stai trovando tutte tu Fere Ma davvero? Fere Ma come hai fatto a prenderla? Aspetta Come? Aia Steph è l'unico Che quella moto che vola non vola E cade di testa Cade di testa Allora Come hai fatto? Con X apro le ali Con sinistro Con sinistro? Che fa con sinistro? Con destra lo sparo Ok Con sinistro non ho idea Magari non puoi volare perché non è tua Scusa, giusto? Dovrei finalmente Finalmente Aver capito Sei pronta? Sì Allora Guardami Io sto gestendo i miei affari No, no Fere Tu mi stai distraendo Lo sai È la cosa più importante di questo gioco Allora, aspetta un attimo che mi sistemo qui dentro Allora Teoricamente Ta Ta Mi sono confuso col tasto Fere aspetta Aspetta Ho confuso il tasto Fere Fere Non devi ridere Il fail della vita Il fail della vita Guarda 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 Volo Stai proprio volando Sì Ah, ora sì Guarda Oh mio Dio Guarda Quanto costa quella? Quanto costa? Tipo due milioni e mezzo Ma Fere guarda No Consolini me la devo comprare per forza È bellissima È bellissima No, ma che cosa è bellissima Valutatela come possibile veicolo perché è davvero bellissima È davvero bellissima Come hai fatto? Sei morto? Mi gira un attimo e muore Ma come possibile? Vabbè Facciamo una bella missione nel nostro bunker va Che qua la gente perde tempo Non so io Allora Non so bene perché ma abbiamo due missioni diverse Io devo arrivare a quattro stelle di sospetto Ma la tua è più bella della mia Mentre Fere deve andare in un posto Io devo andare a prendere cose Uffa Volevo anch'io quattro stelle di polizia Allora Direi che ho il veicolo giusto per farlo Che poi non ho ancora capito a chi ho rubato Non lo so neanche io Questo veicolo Non lo so Però direi che ho il veicolo giusto Scusi Siamo vicini Ti vedo Davvero? Sì Vuoi vedermi? Pranta Guarda davanti a te L'hai visto invece il procione invisibile dietro di me? Sì ho notato È un consolino Non ne ho idea sinceramente Suppongo di sì Visto che si è seduto dietro No c'è sembra Harry Potter È la cosa più bella di questo mondo Che bella Cavolo la voglio anch'io A terra Ok iniziamo a bucarellare un po' di macchine Scusate Sì devo arrivare a quattro stelle Io non mi sto divertendo a spararvi Purtroppo ho dovuto abbandonare la moto Sono a tre stelle Me ne manca soltanto una Adesso si fa un po' difficile Infatti sono abbastanza preoccupato Ok Perché arrivare a quattro stelle Non è la cosa più banale del mondo Comunque perché devo farlo? Perché devo distrarre la polizia In modo tale che Fere possa entrare in un posto particolare Allora dove sono? Giusto ho capito bene Sì io sono fuori da un posto enorme Ok E vedo un elicottero pieno di poliziotti Giustamente mi dice Aspetta che i poliziotti abbandonino l'aria Perché sicuramente tu li devi attirare verso di te In modo tale che io possa entrare e rubare le scorte Ok Perfetto Mi piace molto come piano però È bella Mi sta mettendo abbastanza in difficoltà Devo essere sincero Perché arrivare a quattro stelle di polizia Ma come si mette in difficoltà arrivare a quattro stelle? Ma come? Fere non ho neanche un colpo di lanciamissili Quindi devo farlo sparando Capito? Ah beh ragione Eh purtroppo sono a secco Non ho le munizioni Quindi è un po' più complicato Neanche le granate Ma dai ma sono proprio messo male Però oggi Poverissimo oggi Potevi fare un po' di shopping Di armi Volevo risparmiare per il bunker A quanto sei? Quattro Quindi teoricamente adesso tu dovresti poter andare Aspetta aspetta Ci sono posti di blocco con le FBI La SWAT scusami Aiuto C'è c'è il delirio Oh mio Dio un camion gigante Ma lasciatevi in pace Dai Fere veloce ho tre quarti di vita Sto panicando Mi fa male la gola Fere Tu non hai idea di quanto è lento questo furgone Non hai idea di quanto è lento Allora Spero di riuscire a uscire gigante Continua a distrarre ancora Ok Cioè ma tu sei ancora dentro la stazione di polizia? Non è una stazione di polizia È una specie di laboratorio Ma poi sono arrabbiatissimi Non sono quattro stelle normali Ci sono posti di blocco Ok Con blindati In giro per la città Allora Io sono uscita dall'edificio Ok Ok Sono E sono visibile a tutti i player Quindi tu dovresti Attenzione le tue scorte sono visibili A tutti i giocatori nella sessione Ok Però io non posso venire a darti una mano Perché devo continuare a distrarre la polizia Deve avere il consolino dietro che mi sta scortando Cioè realmente non sono ancora sicura che sia un consolino Però Ok Al momento non mi ha ancora ucciso Quindi dovrebbe esserlo Dovrebbe esserlo Lo spero Lo spero Lo spero Lo spero Oh mamma mia Ho una HP In questo esatto istante No Non morire Ti prego Mi devi aspettare al bunker Io torno con le scorte ed è tutto bello È bellissimo A quanto sei? Dammi una distanza Tantissimo Tipo? Sono 5 chilometri e mezzo No E oltretutto è lentissimo sto veicolo È lentissimo Cioè io devo distrarli ancora per 10 minuti qua Ho le ruote bucate e mi sparano elicotteri Swat Polizia Morirò Morirò malissimo No ti prego Steph Cioè Fere mi sta sfruttando pesantemente Eh sì beh mi sembra giusto Allora io ti ho sempre aiutato nelle tue missioni del SEO e del Motorcycle Io non ti ho mai fatto fare una cosa così difficile Ma questa non l'ho scelta io La scelta è il bunker Ti stai vendicando di tutte le volte in cui ti ho chiesto una mano Oh guarda che mi sta mettendo un'ansia assurda questa missione A te? Sì a te Ok anche a me sta mettendo ansia Quanto ti manca? Eh 3 chilometri Ok 3 chilometri Sto facendo slalom tra le macchine per andare il più veloce possibile Una macchina minimo veloce con delle ruote ancora intatte Invece no Se sono morto e mi continuano a perseguitare Per fortuna ci mancava sola che rimasta a me Ma dove mi hai fatto finire Fere? Questi sono pazzi Vabbè guarda qui stiamo facendo una consegna di armi Cioè inizia a essere È normale No 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 aiuto Ah ti adesso dimmi tra io Ho fatto un incidente Steph No Fere Tutto a posto però Cioè giuro Giuro che mi fai arrabbiare Ho cercato una macchina che siccome io sono in contromano mi è arrivata addosso Ok 800 metri È tutto normale Steph 800 metri È tutto normalissimo Ce l'ho quasi fatta Dai Fere 700 600 Ce l'ho quasi fatta Anche perché se ci metti ancora molto arrivo a 5 stelle e mi portano i carri armati qua Arrivata Ok Oddio Ok Ce l'ho fatta Allora io sono entrata Consegna effettuata 5000 dollari Come 5000 Mi ha pagato 5000 dollari Come 5000 Per tutto quello che io ho fatto 5000 dollari Ok Cioè io mi devo comprare la moto che vola Mi dovete dare i milioni Non i 5000 dollari Sinceramente penso anche di non aver fatto soldi Ti dico la verità Ti dico la verità Ma ancora meglio Allora vuoi venire nel bunker Così vediamo un pochettino quelli che si sono messi a fare le ricerche delle armi Vediamo se stanno lavorando bene Ah arrivo dai Stai volando pure con le macchine adesso Ho parcheggiato su un albero Un albero Sembra Scrappe Meccaniche Ma loro non l'hanno ancora visto Non l'hanno ancora visto Spoiler Esatto Bravo Steph Su Scrappe Meccaniche parcheggio negli alberi Sì Allora arrivo a fare Dai invita Calmi Calmi Vi prego Quindi che tipo di arma sta facendo Le canne per un carro armato che sparerà missili Secondo me no Tu invece che fai Ma anche tu non si capisce bene che fai Dai allora siamo pochini perché ovviamente ho delle scorte Sì Quindi toccherà aspettare Stai con me per questi tipi di lavori non è che hai così tanti candidati Capito? Cos'è questa cosa? Non mi sorprende Solo la gente come te la farebbe Fere E' una stampante 3D fatta per fare le armi secondo me Io direi comunque che ci possiamo fermare così E che nel prossimo video che esce domani perché vogliamo fare almeno qualche giorno di fila Con il nuovo aggiornamento perché è troppo figo per non portarlo Compriamo questo veicolo qua in particolare che adesso vi faccio vedere Ma hai detto che dovevano scegliere i consolini l'hai scelto tu alla fine No allora c'è il centro operativo mobile e poi ci sono i veicoli Quindi noi nel prossimo video compriamo il centro operativo mobile E tramite sondaggio nel terzo video compriamo il veicolo Ma io spero che decideranno che io mi compro la moto Quindi i consolini mi raccomando In questo momento vi sto guardando negli occhi Mi raccomando Non desidero altro A parte la pizza A parte la pizza io desidero soltanto la moto per fare gli stunt pazzi Quindi votate quello Fate da bravi, da gentili E ci fermiamo così per questo video Quindi tanti likes e tanti commenti Sondaggino E speriamo che questo video vi sia piaciuto Speriamo che se vi è piaciuto Lasciateci un like Nella prima volta che vedete il nostro video potete considerare la link Di iscrivervi e farò perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao